San Nicola cammina tra i fedeli, si accomoda sul peschereccio che lo porterà in mare per un pomeriggio, poi alla sera rientra sulla terraferma e torna a camminare tra i baresi. È il santo delle genti che nel giorno della sua sagra passa in processione per le vie della città, un rito che si ripete ogni anno e che nel 2011, nei 150 anni dell'Unità d'Italia, ha fatto tappa anche di fronte alla provincia di Bari. Noi stasera siamo qui proprio perché anche la provincia fa 150 anni e anche viene una villa torre che secondo il presidente più alto del campanile della cattedrale, è 3 metri più alto del campanile della cattedrale e abbiamo visto anche che è stata illuminata e porta i colori dell'Italia. E poi di nuovo in viaggio, accompagnati dalla devozione dei pellegrini di Gissi e della provincia di Chieti, giunti a Bari dopo un viaggio di 300 chilometri a piedi. Alla fine la statua trova la sua naturale collocazione al centro di una piazza del Ferrarese trasformata in basilica illuminata, giusto pochi minuti prima che scende il diluvio, potenza ancora una volta di San Nicola.